La cantante Nicola Macci, 58 anni, alias Gio Perrino, è ricoverato ospedale gravi condizioni ospedale seguito a un incidente stradale che ha avuto luogo. Questa mattina a Cagliari, il perno stava camminando verso la sua motocicletta viale Trieste quando, per ragioni non ancora accertate, ha respinto a car. 2 al violento fu lanciato dalle due ruote che finiscono sull'asfalto e inizialmente perdendo i sensi. L'automobilista si fermò per aiutarlo. Gli agenti di polizia municipali e un'ambulanza di 118 che trasportavano il cantante in codice rosso a Brozio sono arrivati sul posto le sue condizioni sono gravi. Gli agenti municipali stanno lavorando per ricostruire le dinamiche dell'incidente.